Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati su Pausa Caffè, parliamo di Cronaca, c'è stata una scossa di terremoto nel Foggiano che è stata avvertita nella notte con grande paura da parte degli abitanti che si sono riversati sui social per commentare l'accaduto o semplicemente per informarsi intanto su tutto quel che stava succedendo. Il sisma ha raggiunto una magnitudo 3.2, non altissima ma diciamo sufficiente per poter distribuire paura. Il sisma è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 5 e mezza del mattino a 23 chilometri di profondità. Il terremoto è stato quindi localizzato a 7 chilometri da Rodi Garganico e 9 da Ischitella. Secondo i dati, secondo le testimonianze che sono subito giunte, la terra avrebbe tremato per alcuni secondi. La scossa è stata avvertita da tutti gli abitanti della costa garganica che sono stati svegliati di soprassalto e alcuni di loro hanno affidato ai social parole piene di preoccupazione, piene di spavento. Per il momento non si registrano fortunatamente danni a cose o a persone, soltanto un grande spavento per i residenti che sono stati svegliati per forza di cose. Recentemente anche la Sicilia è stata colpita da un sisma nella serata dell'8 dicembre, ne avevamo parlato con la scossa 4.1 con epicentro nel Catanese. E altri due eventi sismici hanno interessato le isole eolie in un territorio già dilaniato dal maltempo. Negli stessi giorni un doppio terremoto ha colpito l'Umbria con scosse avvertite anche nella Toscana orientale e la stessa Toscana, verso la fine del mese, cioè la fine del mese di novembre, è stata colpita da un terremoto con epicentro ad Arezzo. E sempre nello stesso mese sono state raggiunte nelle marche da uno sciame sismico con scosse di magnitudo 3.6. Spero non ci siano altri aggiornamenti, nel senso che la situazione in qualche modo rientri. Per quanto mi riguarda è tutto, vi ringrazio per l'ascolto di questo video, noi ci sentiremo alla prossima.